La pace ai miei figli amati, la pace. Figli miei, io vostra madre sono felice in vedervi riuniti in preghiera. Pregate, pregate molto di più, e così Dio vi benedirà. Io sono qui per aiutarvi ad essere tutti del mio figlio Gesù. Figli miei, io desidero accogliervi nel mio cuore immaculato. Accogliete il mio amore nei vostri cuori, e fate, amato, mio figlio Gesù, il mondo si sta distruggendo nel peccato perché non prega. Pregate voi, figli miei, e fate con che tutti conoscono i miei messaggi, perché possano convertirsi e salvarsi dalle grinfie del nemico infernale. Tornate alle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Grazie. Grazie.